Musica E benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Alawake Rieccoci questa settimana con questo nuovo video di Alawake Siamo all'episodio... Non me lo ricordo Ehm... come vi avevo promesso appunto solo quel sabato mancava Alawake Dato che a molti piace, a molti non piace Ma comunque tento di accontentare tutti E credo che anche la storia ormai stia finendo Quindi poi vedremo di cambiare serie e fare qualcosa che piace un po' a tutti Quindi cominciamo subito quest'episodio La settimana scorsa ci eravamo lasciati Settimana scorsa, due settimane fa ci eravamo lasciati In questo punto che dovevamo riscrivere la realtà Noi abbiamo preso solo la batteria E poi la tizia ci ha dato il resto Quindi adesso dobbiamo riandare in quel punto Intanto... ok, rimettiamo Ricarichiamo Ok, e andiamo in quel posto Intanto spero che mi... Ah, ecco I gabbiani Muori Guarda che si autogena Questi se non sbaglio non hanno aura Ma bisogna solo spararli Ho andato a questa cosa, poi non so Voi veterani di Unawake sapete tutto? Ditemelo perché... E se tipo io ti sparassi? Propano C'è scritto Propano Oh mio Dio! No, devo mettermi da posizione Nerd Gaming Ok, Nerd Game Perfetto Ok, qui ci sono dei Bengala La carabina Sono full C'è qualcuno che si sta generando Basta, questi cosi li odio Ehi, ciao Ecco, guarda che stronzi Ehi, siete un bel po' C'è una cecanti? No, vi butto un Bengala così già vinculate Adesso vi sparo e basta No, che cazzo è che sto parlando? No, ho sparato il razzo Fanculo E vabbè, non ci fa niente Ok, sto sconfiggendo un po' tutto Oh Ehi, ciao Che tu fai qui? Mierda Ok Merda Ho scordato a mettere il cronometro Un attimo, un attimo, un attimo Ehm Vabbè Cronometro Ok, mettiamo cosa che già recco da un minuto e mezzo Reset, inizia Ok, lo metto qui Bello Sullo schermo Oh Riprendi gioco Via Che mira che c'ho Ce l'ho seguito in ogni suo momento Ok, allora Riscriviamo queste ennesime realtà Ora dobbiamo riballare Vai Ad Abby Step Pan Pananana No, basta Ehm Ba 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 No, sta canzone è bellissima L'avete scritta l'altra volta nei commenti Non me la ricordo Ma, cazzo In chiave c'è un bordello Ehm Adesso dovrebbe ricadere il satellite Ok Ehm Clicchiamo così Guarda Prendi il mouse Tototototototot Ok Tanto vola il cellulare Ah, è troppo bella Sta sce Uh, tanto Cronometro Eh, dico Sì, boh Banananana Bananananana Bananananana Che però non capisco perché Mi sta rifacendo rifare la storia What the fuck Ok, adesso bisogna scappare Fuggi dalla distruzione Ehm, perché non corri? Perché sei stupido Oh Cristo Dobbiamo prendere da qua perché ormai me lo ricordo Ehi, ciao Ah, ma qui ci sono nuovi stronzi Facciamo così? Ehi, no, no, no Non si fa Ma va, fanghiu Sanno Giù Guarda come schivo Guarda che potenza Hai rotto la minghios Oh Vai a farti fottere Fuggi dalla distruzione BOOM Epico Ok Lei deve essere in pericolo Meglio che mi sbrighi Sì, perché se non sbaglio ci sono quelli che se la stanno torturando Perché lui adesso sa tutto Quindi è un veggente Interessante Adesso ci sono quelli tipo attaccati Ehi, guarda questo grosso quant'è Ma che merda Guarda Figlio di una madre zocco Oh One shot, one kill Bitches Home Oh Non gestacchi un node Ancora Eh Ah, questi sono gli slime Quelli stronzi E mo faccio così Colloca Minchia una sola batteria Devo ricaricarmi la batteria Quanti cazzo ce ne sono Ok Merda Ho finito anche quelle fottute munizioni Quanti ce ne sono Ok L'ultimo Cazzo Non ho più batteria Dai Ah, non ho più munizioni Porca troia Eeeh Che slow Merda Dai batteri caricare Dai, 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 dai Apri, 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 apri Dai, dai, dai Foglio di pu... Oh Tua madre è stronza Va proprio Mamma mia Oh, vai a farti fottere Ok Quieta Dov'è Emma? Ups Aperto? Ecco, sta aprendo Dov'è? Uh Tutta questa storia Mi dava Avrò bisogno Di quelle chiave Della tavola calda Adesso di dentro C'è una chiave Del motel Che devo assolutamente Procurarmi Non devi fare questo Ho il motel Master key Ho un passepartout Del motel Passepartout Che francese Mamma mia È orribile Vuoi sapere Il tizzo che ti somiglia Giusto L'altra volta mi hai detto Che c'era stato alla festa Ma tu non c'eri andata No, non è vero Ci sono andata Mi prendi per il culo Lurida puttana Lui, lei Oh my god È morta Lui sembrava così affascinata Eh, questo ti fotte L'attrazione fisica Ti fotte Così Lui Ti vuole accanto Poi ti ammazza D'accordo Dove andare al motel A dare una chiata A quelle stanze Fai dovuto restare qui In tessi Dico su signora Tieni la ciuca C'è e rimani qui Perché quando ritornavamo Dal motel Se non sbaglio Lei moriva Se non erro Resta qui stavolta Perché l'altra volta Non l'ha fatta E mi è successa Questa cosa Che non ricordo Ok Esplorare le stanze Del motel Ah, perché adesso C'è il passpartout E che cazzo È morta Merda Fanculo Me l'hanno ammazzata Di nuovo Mi sento Però Ci ha dotto Il passpartout Quindi non dobbiamo Ritornare lì A prendere le chiavi Ok Quindi raccogli Munizioni Per lanciacazzo Eh, lanciarazzi C'è una pagina Di monoscritto Dentro una stanza Sbaglio Dentro questa Stanza Qui Che le mo' Vado a prendere Perché Mi serve Tanto Dove sei Monoscritto Eccoti Ok Questa porta Si apre No Non si apre Adesso andiamo a aprire La stanza dove c'è il morto E poi dobbiamo andare all'osservatorio Se non ricordo male Adesso qui c'è quello stupido Infatti Trova le chiavi Dell'osservatorio È fine E questo era tutto Adesso bisogna rientrare All'observatory Il tuo messaggio Questa scena la so E vai Rispondere ai messaggi Mentre siamo in chiamata Mentre siamo in chiamata Per di Mentre sto registrando Ok Adesso che dobbiamo andare all'osservatorio Dobbiamo riesplorare Parlare con la tizia Trovare tutti Avrò di una lariuto Per ricevere Un Un What the fuck Un messaggio da lettere What the fuck Ok La storia si ripete Secondo schemi Che l'uomo lo ricorda Sa che deve trovare Il pezzo di ricambio Per il telescopio Ah Quindi vado a prendere Ah infatti Andiamo a prendere direttamente La lavatrice dei sensori Senza andare a fare Tutte Le cazzate Insomma Buono Oh god Ok Tanto qui stronzi Sopra stronzi Boom 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 Ok Eh Si spawnano accanto Per di Qui Vieni qua Boom Boom Ok Eh La matrice dei sensori Guarda quanti stronzi Che ci sono No C'è quello che spara granate Ehi 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 La carabina Che ti fa più male Pena mi importa quello Guarda Dai stronzo Ok Adesso tu Vai a fare in culo Andiamo a prendere Stamatrice Of sensors Intanto qui c'è Una pagina Di manoscritto Posso aprire Questo Uh Fucile da caccia Ma è una merda No forse no Forse fa un male Della madonna Devo provarlo Assolutamente Eh Andiamo a prendere La matrice Dei sensori Che si trova Put Qui Non era una macchina Tipo tutta Piena di regnatele Boh Comunque prendiamo Questo monoscritto Da qua E Da lì si vede Il motel Dovrebbe essere Che bella visuale Tipo Nebbia totale Ma non ci fa niente Adesso Dobbiamo tornare Al telescopio Perché adesso Sappiamo che La matrice Si era rotta Che il tutto Si era fottuto Però questa strada Adesso è struita Quindi da dove Eh Riecco i gabbiani Di merda Guarda che si Ehi Ma tu proprio Sei scemo Ok Questo fucino È una merda Ehi 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 Fottuti Piccioni Ricarica la vita No È perché Tiri i bengala Come una merda Sprecare i bengala In questa maniera Proprio Non ha senso Dove sei? Ehi Boom Headshot Bitch Dove sei? Boom Headshot Col fucile da caccia Mi cassa un fottio Perché è praticamente Quasi one shot One kill One shot One kill C'è un aboggio Dai Boom Ah Hit marker Fa culo No Ricarica Stavolta non mi tarai Il marker Quando è che la smetterò Di dire stronzata Boom Boom Dai Eh no Quella è una pianta Ehi Ehi Mi hai fottuto Mi hai ingannato Boom Headshot Bitches Boah Ok Usa Ehi Chiè Eh No Non sei tu Vero No Non sono Mio Maggio che si Meglio che Enti Ti aprirò la porta Grazie 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 Dove sto andando Dove si è andato Ok da qui Parla con la dottoressa Meadows 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 Adostai La sopra E come tutto questo fosse già accaduto È già successo Da perché prima mi devo andare far su E poi mi butti giù E poi mi lasci cadere No Quale era Tu mi porti su Qui qualcosa non quadra Ok Andiamo a reinstallare la matrice Guarda adesso c'era l'impianto Quello a gas Di riaffreddamento Sono un erro Che si doveva fare Perché adesso si fonde tutto Se non sbaglio Oh mio dio Dove andare fuori A fare le tre valvole di merda Anche se la strenzazione Che qualcosa andrà storto E infatti Mi c'è nel conto perciò Sì me ne occupo io Esatto Dove riattivare le tre leve Se non sbaglio Gestisci la sicurezza E le tubature principali Quindi Aspetta Quindi adesso è solo un tubo Da qui posso scendere? Tipo da qua? No da qua mi suicido Praticamente Da qua forse posso Sì Sì Sembra di sì Buono Tubature principali Comunque ragazzi Se non state vedendo La mia Facciona In alto nel video È perché Io avevo messo la cam Per registrare Me ne sono accorto Mentre stavo registrando Che praticamente Mi sono voltato Verso la cam E c'era l'obiettivo Chiuso Ho detto si è spenta È scaricata la batteria No Si è spenta Perché non avevo avviato La registrazione Quindi Scusatemi Per questo inconveniente Tenterò di metterlo Porca puttana Qui il bengala Ci sta di brutto Quindi tenterò di metterlo Inizio video La La Una notifica Un qualcosa Perché Sì Ho fatto un epic fail Cioè all'inizio ero convinto Ho detto anche che Vabbè Lasciamo stare Dai Che cazzo è Un altro Perché sono senza munizioni Fanculo a me Dai Cristo Questo è ancora Indemoniato Oh figa Un colpo alla volta Guarda che puttana Dai Cristone Dai Oh va fanculo Qui ci dovrebbe essere Delle munizioni Tanto c'è pure Il coso Prima mi importano Le munizioni Perché altrimenti Ci schiava Ecco Ehi Tutta l'ancile granate Aspetta Andiamo piano Dai prendi ste figa Di munizioni Ok Dove Cristo sei È scomparso What the fuck Dove sei Non ti trovo più What the fuck Oh 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 Ok Ehi Fottuta munizione Fottuta munizione Ah qui usa E aziona Cominciare a Cercare il segnale Ti aspetta Si muove Oh my god Oh my god Ciao macchina Io sono Jumpy tech Minchia ti ha conciato male Per dio Intanto acqua Oh 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 Sto volendo Intanto vediamo a quanto si Ha Porca trota Merda Cos'è No, 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 quello non me lo lanci No, 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 quello non me lo lanci No, 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 no Ok, me lo stai lanciando, ok, me l'hai lanciato Zitto, 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 zitto Mi stai lanciando un po' tutto Oh, cr... No, 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 no Porca tro... Baffa, artifotto Oh, Cristo Ok Ce n'è più? E adesso dove cazzo passo, scusa Da, da dietro, da dietro, ok, lo posso aggirare forse Oh no No Minchia, mori io No, ricomincio da qui Ok, ok, video è un po' più lungo del solito, ragazzi Non ci fa niente Eh... Sì Oddio, questa è una cosa bru... Cristo Ok, questa da vedere Con la mia faccione è una cosa bella Perché Diciamo che Ci stava Oddio mio Ok Basta Eh, Cristo Dai, adesso dovrebbe arrivare un container della Madonna Porca troia Oh Da dove passa? Non ho idea Ok 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 Non c'è più niente Un carrello volante Una rete che vola Una gabbia Oh mio Dio Li uccido io Basta È finito No, cos'è quello? Fine Smettila Piantala Bravo Finito Oh, non c'è più niente Vediamo da dove passo, scusa Tipo da qua posso passare No Devo trovare una via alternativa Ah, sì, da qua sopra Ecco, infatti Infatti, infatti Che stupido Potevo farlo anche prima Oh mio Dio Si spengono i punti di controllo Ma meno che mi ci avvicino Quindi non li potrei nemmeno utilizzare Volendo Che bastardata sta diventando Oddio Oddio Ok Oh Dai, stiamo quasi Quasi al sicuro Ehm No, ok Non siamo al sicuro per niente Morto? C'è più nessuno? Solo non si vedono I due lecorni Papapap No Vai a spararti Quanti lancia Bombe ci sono Ok Bisogna entrare dalla dottoressa Meadows Dai, veloce, veloce Entra, 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 entra Ok, usa Perfetto Torna alla dottoressa Meadows Intanto già sta aprendo qui il discorso Ok Siamo al sicuro Intanto prendiamoci queste cose Che sono sempre comode Oddio Che alla fine mi sta facendo sclerare Praticamente Oh god Mamma mia Ok Tranquillo Munizioni Prendila, 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 prendila Ce l'ho fatta Che potente Mamma mia Ok Sto registrando da Quando ho startato il cronometro 20 minuti Oddio Più quelli che avevo recato Quindi un video abbastanza lungo Hai trovato il segnale? Sì Non credo sia uguale All'altra volta Comunque lo stiamo rilevando sicuramente Oh, quindi cambiano anche il segnale adesso Temo di no Te ne sto stampando una copia Mi riferiti Se non ti dispiace No, le domande no No Vaffanculo Non te la voglio fare le domande Un'altra stampa Un altro frammento di segnale Il messaggio non è ancora completo Ma è un altro pezzo dell'arma Che l'uomo ha costruito Per battere il suo avversario Semplici parole Su un Qualcosa Adesso vorrei mandare al motel Che è l'ultima parte Ecco Ok, quindi Si sta andando al motel Questo video è giudolato fin troppo Spero di non vi Di non vi Avere annoiato E appunto Se il video vi è piaciuto Invita a lasciarmi un mi piace E ciao ciao Ciao